La Regione Campania finanzia l'Istituto Comprensivo Vicenza di Ponte Cagnano-Faiano, capofila del progetto Star Bene a Scuola. Candidato nell'ambito dell'avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali, il progetto, sesto ex equo nella graduatoria regionale su 143, è stato presentato da una rete di cinque istituti scolastici salernitani, con capofila l'Istituto Comprensivo di Ponte Cagnano-Faiano in collaborazione con il consorzio La Rada. Con un punteggio di 95 su 100, il progetto è stato finanziato con 79 mila euro e consentirà la presa in carico in modo globale degli alunni con BES, agendo sul recupero delle competenze, sull'alleanza educativa con le famiglie e sulla formazione dei docenti.